In queste settimane, a riguardo argomento coronavirus, siamo stati sottoposti a un vero e proprio bombardamento di notizie, opinioni, dati, valutazioni e anche di bufale. Sì, perché dall'overbooking di notizie, soprattutto apparse sul web, non era facile scremare anche quelle che, tra deduzioni pseudologiche, miste a credenze popolari, si insinuavano nel torrente di informazioni a cui potevamo abbeverarci, spacciandosi per affondate e certe. Vediamo qui un piccolo campionario di quelle più sentite e dove, ancora una volta, però il sito del Ministero della Salute ci corre in aiuto e ci chiarisce le idee. Bere latte protegge e cura l'infezione da coronavirus? Non ci sono evidenze scientifiche a riguardo e sull'azione preventiva nei confronti dell'infezione. Quindi beviamolo perché fa bene ed è un alimento completo. È possibile le mani e la pelle disinfettarle con i raggi UV? I raggi UV non devono essere utilizzati per disinfettare mani e pelle. Le radiazioni UV possono causare invece irritazioni e danneggiare gli occhi. Meglio usare quindi gli igienizzanti e lavarsi più spesso possibile le mani. Mangiare peperoncino protegge dal virus? Anche qui nessuna evidenza scientifica sull'aggiungere peperoncino ai cibi. Più sicuro il metro di distanza fisica tra le persone. Le mosche possono diffondere l'infezione? Non sono stati fatti studi scientifici a questo riguardo sulle mosche e su come potrebbero rappresentare un vettore esterno del nuovo coronavirus. Il virus si sa di certo che si trasmette principalmente attraverso le vie rere e le goccioline di saliva. Ma ci si contamina anche toccando superfici infette. Quindi prima di toccarsi occhi, bocca e naso, lavarsi molto bene le mani. Acqua e bicarbonato curano il covid-19? Nessuna anche qui comprovata azione del bicarbonato di sodio disciolto in acqua né curativa né preventiva. usiamolo casomai quindi se non abbiamo digerito bene. E le zecche possono trasmettere il virus? Vedi capitolo mosche. Queste sono solo alcune delle dicerie che in questi giorni sono passate di bocca in bocca alimentando anche falsi opinioni. Quindi per non sbagliare rimaniamo legati alla tradizione. Le uniche bufale a cui dare credito sono quelle che fanno il latte per fare buonissime mozzarella.